Colonello scoperto un traffico di droga con lo stupefacente che veniva praticamente chiesto su ordinazione e il rifornimento principale era su Bergamo. Sì, il rifornimento su Bergamo e convolgeva la nostra provincia. Un risultato direi eccezionale nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Chi è rimasto coinvolto? Sono rimasti coinvolti diverse persone di varie fasce d'età, di estrazione sociale. L'artefice principale comunque era un nulla facente che viveva del suo traffico illecito. Parliamo droga di che tipo? Di qualsiasi tipo, dalla droga sintetica all'ascice alla marijuana, cocaina e quant'altro. Come veniva ordinata la droga? La droga veniva ordinata anche via telematica per sms e poi veniva ritirata personalmente. C'è stata all'inizio anche una collaborazione o alla fine da parte dei colleghi di Bergamo? Una sinergia non solo dei colleghi di Bergamo, ma anche della provincia di Savona e della compagnia di Sanremo. È importante intervenire tempestivamente anche perché lo spaccio di droga prefigura altri tipi di reato di conseguenza? Certamente. L'assuntore per assicurarsi la dose quotidiana è disposto a qualsiasi cosa, anche a commettere reati. Capitano, come si è svolta questa indagine? L'indagine ha avuto avvio dalla grande penetrazione informativa che l'arma riesce a garantire presso le comunità che gli sono affidate. Dai primi elementi acquisiti è stato possibile già raccogliere indizi di come funzionava l'attività di spaccio posta in essere. Successivamente con gli ausili tecnici che sono stati messi a disposizione dell'indagine è stato possibile raccogliere e blindare tutto il funzionamento dell'attività. Tossicodipendenti parliamo sia di ragazzini minori ma anche di imprenditori. Sì, lo stupefacente che prediligevano questa attività di spaccio era sia cocaina che ascice. Quindi in relazione al costo della singola sostanza il target era professionisti affermati ma anche ragazzini alle prime espedienze con gli stupefacenti. Una particolarità riguarda che il pagamento veniva effettuato in anticipo con ricariche su postpay. Questa è la generalità del promotore di tutte le attività. Sostanzialmente lui riusciva a raccogliere in anticipo le risorse economiche necessarie per poi acquistare lo stupefacente e quindi metteva sostanzialmente soltanto il suo rischio personale e alla fine aveva soltanto un guadagno. Ecco tenete, gli ordini venivano effettuati in via telematica anche con sms o addirittura via mail? Sì, venivano effettuati gli ordini sia interventi di telefono, sms o email. E c'era un linguaggio particolare? Tendenzialmente utilizzavano un codice, parlavano di barili, bottiglie o latte di olio o di vino e vista la conoscenza personale che aveva il fulcro di questa attività con gli assuntori o a loro volta spacciatori gli permetteva già di capire se si parlava di cocaina piuttosto di ascice o di qualche altra sostanza. E poi consegne a domicilio? E poi soprattutto le consegne venivano effettuate a domicilio così da eludere eventuali controlli per strada o in locali pubblici. Si può stimare un giro d'affari settimanale? Un giro d'affari settimanale che circa almeno dai 3-5 mila euro circa almeno a settimana poi variava in base ai periodi di vacanza, di festa o di maggior affluenza di turisti nella provincia di Imperia. Grazie. 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 Grazie.